Un nuovo casello autostradale dell'A24 Roma-L'Aquila, più a ovest del capoluogo all'altezza del comune di Lucoli. Chiusura, di conseguenza, del casello di L'Aquila-Ovest, troppo centrale con conseguenti problemi di traffico in Gorghi. Della proposta se ne è parlato oggi a Palazzo Silone, un incontro tra il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, l'amministratore delegato di strada dei parchi Cesare Ramadori, il sindaco di Lucoli Gianluca Marrocchi e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Valuteremo attentamente la fattibilità dell'intervento, si limita ad anticipare Ramadori, alla vigilia della riunione operativa. Sì, siamo stati convocati dal presidente della regione per parlare di questa nuova possibilità, perché l'intenzione, da quello che ho capito, del comune di L'Aquila è di chiudere lo svincolo dell'Aquila-Ovest, perché è troppo al centro della città. Si tratta di vedere se la soluzione è Lucoli o un'altra soluzione che uscirà fuori oggi, discutendo tecnicamente di questa soluzione. La società però è possibilista, vuole vedere bene. Vogliamo solo capire perché non possiamo mettere uno svincolo ogni 3 o 4 chilometri. È un'ottima scelta quella di provvedere ad indireggiare il casallo dell'Aquila-Ovest, questo consentirà di valorizzare la nostra valle e favorire il turismo. In pratica ci consentirà di recuperare i 30 anni perduti di turismo da quando è stata fatta quella scelta sbagliata del casello di torre in parte. Questo non significa che il casello di torre in parte verrà chiuso, anzi sarà l'approccio diretto per arrivare nell'altipiano delle rocche e per poter fruire di campo felice.